Cari amici di Napoli, oggi vi faccio vedere una vera figata questa qui questo è il primo supermercato senza casse e senza commissi per entrare bisogna scansionare con un QR code entriamo vedete, sono i prodotti sui scaffali bellissimi prodotti che possiamo scegliere e qui è una delle soluzioni più economiche chi sta a New York di questi periodi e vuole risparmiare sicuramente è un'ottima scelta scegliete quello che volete lo prendete dallo scaffale e ci sono le telecamere sopra che vedono ogni nostro movimento qui potete farvi anche un bel caffè forse a un dollaro e 85 credo che se ti fa un euro e 20, un euro e 30 qui sono i biscotti vedete le patatine se le gradite io adesso prendo un panino un sandwich vedete e prendo una coca cola adesso esco fuori con i prodotti non è che usciamo senza pagare i prodotti che abbiamo preso vengono addebitati sulla carta che è collegata all'applicazione i prodotti da riscaldare li potete anche riscaldare in questo microonde diciamo che è super attrezzato questo posto e voi cosa ne pensate di questo nuovo tipo di supermercato? 3,000 dollari grazie grazie grazie